Ecco qui accanto a me c'è Luca Di Nubila Che pizzeria è? Allora io lavoro nella pizzeria di mio padre Un ristorante pizzeria gestione familiare Che abbiamo a Chiaromonte in provincia di Potenza Siamo situati sul parco nazionale del Pollino Niente la pizza che ho portato qui oggi ho chiamato Serena Serena è mia figlia di 4 anni E ho voluto dare il nome di mia figlia a questa pizza E a casa? Serena è a casa? Serena è a casa In bocca al lupo a Serena e alla tua Serena Grazie mille Grazie mille Ciao Luca Grazie